stai pronto andrea bruno pronto stai pronto questa la facciamo di semi prova è vai a te allegro ma non troppo ma veramente non troppo è non andare in modalità su stracazza tranquillo parliamo così perché ci sono gli amici di bari a andrea soffietate le pieghine anni 70 ricordatelo e e continua ad andare forte più tranquillo più tranquillo eh ma anche te più tranquillo oh che si fa va porco dissi questo l'ho sbagliato in pieno andrea bruno più tranquillo mi raccomando eh e questa è la nirvana al mondo alberto la nirvana che è la più bella quella con più salti qua stavo morendo stamattina anche qui stamattina stavo morendo e ora ho seguito la velocità del campione mondiale andrea bruno c'ha il fisico andrea bruno eh c'ha il fisico ci devi vedere che avambraccio che tiene a questo maron 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 di carne bello bello sto posto raga mi uscola manetta mi uscola manetta rallenta un filino solo un filino che c'ho gli avambraccio che si toccano che non riesco più a aprire le dita delle mani ancora un po' anche quello l'ho fatto di merda figa che male alle mani ma non c'hai male alle mani Andre? pochino eh? pochino ma non si apre più la mano dimmi che ti fermi dimmi che ti fermi si ferma aspetta eh allora uno due tre e quattro ma le mani ancora le muovi? il ragazzino sempre dietro morone ragazzino questo due corsi con me ha fatto che ancora undici anni avevi vero? no tredici grande frate bravo 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 questo si deve stirare perché oramai gli anni si fanno sentire giorni canotta domani ci avrà il segno qua no perché oggi hai girato a torso nudo di la verità quindi è tutto dal monte al pet ciao belli saluta a casa screanzato saluta mamma ciao Grazie.